In questo momento ci troviamo in terra con i due giornali dattologici della chissà guagliare di Natale Romano, facciare il senatato, nelle scuole della Zardegna e ci stiamo occupando in un'ultrazione di ieri odier per il creato interno, anche la stagione di due progetti passato, dal centro di questa realizzazione, non neanche ha dimostrato la presenza di un importante volumente di noi, fino a noi, una speciale comunissima, specialmente da tutti i sistemi che oggi, stiamo utilizzando per il monitoraggio un rilevato di ultrassomini che ha detto e della roba di lei, facciamata con l'associata l'autorità, che è sempre una macchina della microfono della trastura, chiaramente di rilevato gli ultrassomini potrò determinato che allo stesso tempo identificare indirettamente le specie rilevante e con il nostro appunto da essere un seguito da essere un'uniferenza che viene indietro in base al tempo ha identificato la presenza del loro minore, ma anche delle specie come uniferenza che è un'uniferenza che è un'uniferenza che è un'uniferenza